Ciao ragazzi, allora, oggi volevo fare questo video perché non ho fatto nel video dell'ufficialità di Mary De Miral come nuovo giocatore della Juventus. Poi dicono che De Ligt è a un passo dalla Juventus e forse ha chiamato Forse Sarri che l'ho visto anche su OneFootball. Poi quell'affare che ho visto io a Juventus per me sono cavolate. Quindi sono ritornato ora dalle vacanze che mi sono divertito tanto tanto e non vedo l'ora di ripartire subito con i video che mi sono mancati da un bel pezzo. Questo è stato un video molto breve, quello che vi volevo fare. Se questo video di oggi vi è piaciuto vi invito di lasciare un like, di commentare qua sotto. Se non siete iscritti iscrivetevi al canale, che è importantissimo, se ancora non l'avete fatto. Se siete appena iscritti cliccate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i miei prossimi video che usciranno. Seguitevi su Facebook e anche su Instagram. Ci vediamo presto. E sempre anche Forza Juve. E rieccomi di nuovo qua. Ciao belli. Ciao